Buon salve a tutti quanti, mi presento, io sono Eiko. Chi sono e cosa faccio? Io sono un ragazzo di 20 anni, abito a Torino e vado all'università. L'università studio arte, musica, spettacolo. Perché? Perché da quando ero piccolo mi ha sempre affascinato questo mondo. Faccio musica da circa 7 anni e mi è sempre piaciuto allargare questo concetto di musica, fare anche qualcos'altro intorno alla musica, che potessero essere video, piuttosto che potesse foto, adesso io sbaglio anche l'italiano perché è tanto che sto facendo queste riprese e sono un po' stanco. È stancante fare questa cosa. Sì, adesso mi chiuderanno il canale perché fumo durante i video e sponsorizzo la birra. No, ragazzi, non bevete e non fumate, lasciatelo fare a me così c'è più roba per me. Comunque, allargare questo concetto. Infatti, a questa cosa cosa si collega? La scritta poliedrico dionisiaco che trovate sul mio logo, perché già qualcuno mi ha chiesto, ma cosa vuol dire questo poliedrico dionisiaco? È successo che ero ancora al liceo, una professoressa chiese a tutta la classe di presentarsi con due aggettivi e io ho scelto poliedrico dionisiaco. Più poliedrico perché? Perché mi piacciono queste cose che si possono vedere da più punti di vista, come se fosse un dado che ha tante facce. È così che intendo la musica, è così che intendo quello che sto realizzando. Per questo che ho aperto questo canale di YouTube, per poter condividere quello che io sto realizzando. Ci sono già dei laboratori di musica che ho tenuto, piuttosto che riprese di concerti dei miei amici con cui io passo le giornate, con cui facciamo le canzoni assieme. Piuttosto che una canzone mia, proprio un mio video ufficiale. Bene, io ho creato questo canale di YouTube con questa idea, un'idea di poliedricità dell'arte. Che poi arte è un parolone, io non è che sono un artista. Faccio quello che riesco. Non sono un letterato, uno che ha studiato tantissimo. Perché adesso sto facendo questo video per presentarvi a grandi linee qual è questo progetto. Questa è una rubrica nel quale spiegherò volta per volta quello che sto realizzando, quello che sto facendo. Infatti, più o meno, circa ogni due settimane, a grandi linee, uscirà un video nel quale spiego una parte del progetto. Questo qua è il video più generale, più avanti andrò sempre più nello specifico. Ora, io vi ho raccontato tutto ciò che vi dovevo dire. Ci vediamo nel prossimo video. State bene, buona vita. Questo video non è sponsorizzato da Pestbrow. State bene, buona vita.